Questo è l'animale qui. Dado? Vieni che è che è bello. Che bello che è bello. Dado? Una volta si mette a galoppare. Pare anche. Adesso viene lento, adesso arriva anche l'altro. Ecco, questa là si mette a ciao. Dado? Questo è pronto. Puliscono tutto loro, riescono a mangiare. Che meraviglia, bellissimo. Vado? Tutti fanno proprio politiche di reinserimento, però qualche anno fa erano... No, no, sono andato alla cascina lì. Ah, questa cascina. Eh, sono andato a mangiare, ci diamo il pane. Quello più scuro è la femmina. Quella è la femmina. E quello che là nel bosco non si vede è il figlio. E poi l'altro grosso come è questo, che è nero, che è di là. Questa è una femmina. E' la femmina. Bravo.